Oggi l'avvocato Covelli cambia vita. L'unica donna sarà mia moglie. Pensa che palle. Pensa che palle. Chi è? Non lo so. C'è un uomo voluto in camera dove sai chi è? A me d'Italia piace proprio tutto. Totto Cuttugno, i ricchi poveri. O meglio ti piace, però un bicchiere d'acqua per favore. 12 euro. Accettate, buoni di lingotti. Voi che ci fate qui? Siamo venuti a Cortina perché non si può. Com'è che te lo puoi permettere? Ti rendi conto se il Presidente viene a sapere che chi gli tromba la moglie è quel deficiente del mio autista? Allora sei tu. Quello che fa a letto con mia moglie. Ma tu ti conosci a te e tua moglie? Ma non lo conosci quello che te la facci, eh? Il Principe. Amore, Emanuele ci ha chiesto se cegniamo con lui e i suoi amici. Emanuele, ospiti? Sta passando a dire. Sì o no? Ma l'hai sentita mia sorella? Eh? E sai, Emanuele ha tanto insistito. Ma che mi tradisci con sto cissone? Roberto, questo è il nuovo parroco. Ma che l'hai dato pure al parroco? Emanuele. Emanuele.